Ciao a tutti ragazzi, primo video ufficiale del 2016, qui mi vedete, quindi vi faccio tanti auguri di buon anno, spero che l'abbiate passato bene e vi faccio anche tanti auguri di buon Natale, visto che non ci siamo visti. Vi ringrazio tantissimo perché abbiamo superato i 100 iscritti negli ultimi giorni e da un primo grande traguardo. Come potete notare dallo sfondo non sono più a Sydney, mi sono trasferita nell'Outback per l'esperienza nelle farm, mi trovo al momento a Cannamalla che è più o meno all'altezza di Brisbane, solo che è 800 km nell'entroterra e a proposito di questo vi devo aggiornare su alcune novità relative al canale e ai miei video. Innanzitutto è partito il progetto 88 giorni in farm, in collaborazione con Portale Australia. Sostanzialmente si tratterà di una serie di video che farò io ma che verranno pubblicati sul canale di Antonino Loggia, di cui vi lascio il link da qualche parte e anche in descrizione. In sostanza appunto parlerò della mia esperienza in farm. I primi due video sono già usciti, sono già online, quindi vi invito appunto ad andare sul suo canale e a darci un'occhiata. Non sono lunghissimi, quindi non vi portano via molto tempo. Iscrivetevi al suo canale se volete seguirmi in questa avventura. Che cosa succederà quindi sul mio canale? Innanzitutto non dovete preoccuparvi perché qui in ogni caso ci saranno dei video, verranno pubblicati dei video, come è stato pubblicato quello relativo al Capodanno con i fuochi d'artificio a Sydney, anche quello vi consiglio di andarlo a vedere perché è un grande, è un gran bello spettacolo. Ho una serie di video arretrati da Sydney, in più ce ne sono anche alcuni registrati per la serie Assaggiamo, quindi in ogni caso dovrei portare almeno uno o due video a settimana sul canale, in base alla connessione che ho dovrei riuscire a caricarli. In più spero di potervi portare anche dei video extra, come dei vlog, dei video tag o dei timelapse se ce la faccio. A questo proposito vi faccio vedere il nuovo acquisto che sto usando in questo momento che è questa bellissima GoPro che adesso appunto sta facendo una prova di timelapse e speriamo che mi riesca, insomma ci sto un pochino prendendo la mano visto che appunto l'ho acquistata da poco. Questo video finisce qui, come al solito vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social, in particolare Facebook e Instagram, adesso sto cominciando a usare Twitter, un pochino, non tantissimo, quindi se volete potete seguirmi anche lì. Anche Periscope, sto provando a vedere se riesco a fare qualche live con la connessione che ho qui, vediamo. Iscrivetevi al canale se non lo siete, vi ringrazio di nuovo per aver raggiunto i 100 iscritti. Vi ricordo anche di mettere un like se il video vi è piaciuto, commentate anche se avete qualche domanda, magari faccio un video in cui rispondo alle vostre domande. Condividete il video se vi piace, se volete farmi conoscere anche i vostri amici. Io vi saluto e vi dico have a nice life! Grazie a tutti!